Centro-sinistra non unito in Molise, da una parte il PD, dall'altra sinistra italiana e rifondazione comunista. In mezzo movimenti e associazioni vicini ai più deboli è corsa ad aggregare le forze in vista delle elezioni regionali del 2018. In vista del voto regionale della primavera 2018, la direzione nazionale di sinistra italiana si è confrontata a Roma per esaminare la proposta volta ad aderire al percorso elaborato insieme a MDP e alla Movimento Possibile. Il 2 dicembre è la data fissata per la Costituente del nuovo soggetto politico, in una coalizione di sinistra in ambito nazionale e locale, in alternativa al Partito Democratico, alla destra e al Movimento 5 Stelle, una proposta ancorata al lavoro a tutela della Costituzione, capace di dar voce agli esclusi, indifesi, migranti e ai precari. Dello stesso parere, rifondazione comunista è al lavoro in Molise per aggregare le forze in opposizione alle politiche liberiste che hanno devastato la Regione, riducendo diritti come la sanità, istruzione, occupazione casa, indirizzi politici che hanno prodotto precarietà, spopolamento e desertificazione delle aree periferiche. Per rifondazione anche in Molise il PD porta le maggiori responsabilità delle politiche messe in campo negli ultimi anni. L'operazione Olivo 2.0 ha carattere strumentale ed è interna alla ricollocazione degli esponenti dello stesso partito di Fanelli, Venitelli e Frattura, quindi per riunire la sinistra molisana, rifondazione comunista richiama quelle figure anticapitaliste e a quanti si impegnano in associazioni vicine alla parte più emarginata della società locale.